Sarvan Asana Sdraiatevi sulla schiena Tenete le mani sul pavimento accanto al corpo con i palmi in giù Sollevate le gambe con un respiro profondo e tenetele su dritte Sollevate il tronco usando le mani come sostegno della schiena Allungate le gambe in su più dritte che potete Cercate di assumere una posizione il più possibile diritta Lo scopo è di porre tutto il peso sulle spalle con le mani a sostegno della schiena Abbassate il tronco sul pavimento lentamente mentre espirate Il Sarvan Asana aumenta la circolazione del sangue al cervello e al cuore Oltre a rinforzare le spalle, la schiena, le articolazioni dei gomiti, le braccia e il collo Oltre a rinforzare le braccia' l'anno شlauzium Ora Il Sarvan Asana Il Sarvo Riccio Arro Grazie Oltre a rinforzare le cuore Cercate Ma Car Bu monk Bupis Buon Come Vi Buon